capitolo 6 espedienti dell'autore per ingraziarsi i sovrani ostenta la sua abilità di musicista risponde alle domande del re sui paesi europei osservazioni del sovrano una o due volte alla settimana assistevo al risveglio del re e capitava spesso che lo vedessi farsi radere una scena a prima vista raccapricciante il rasoio era grande più del doppio di una falce comune sua maestà si radeva come accade in quel paese due volte alla settimana una volta riuscì a farmi dare dal barbiere un bioccolo di spuma dal quale tirai fuori 40 o 50 robustissimi peli poi presi una tavoletta di legno alla quale detti la forma di un dorso di pettine facendoci una serie di fori ad uguale distanza uno dall'altro con uno spillo sottilissimo datomi da glum dal klitsch ci fissai peli a furia di raschiarli e appuntirli verso la punta fino a costruirmi un pettine decente ed in ogni caso un valido sostituto del mio ormai inservibile per aver perso quasi tutti i denti e poi chi altri in quel posto era capace di costruirmene uno nuovo così minuscolo e preciso questa prima prova mi mise in testa un'altra idea la cui realizzazione occupò molte delle mie ore libere chiesi alla cameriera della regina di mettermi da parte i capelli di sua maestà rimasti sul pettine finché ne ammucchiai abbastanza mi rivolsi poi all'artigiano che mi aveva costruito la cassettina e al quale era stato ordinato di mettersi a mia disposizione per qualsiasi lavoretto che mi fosse servito chiedendogli di farmi la struttura di due sedie come quelle che aveva già costruito per la mia stanzetta poi gli dissi di fare tutta una serie di fori con una lesina sottilissima intorno alla spalliera al sedile passai i capelli più robusti attraverso questi fori proprio come si fa con le sedie di canna che si usano in inghilterra quando le ebbe finite le regalai alla regina che da allora in poi le custodi in camera sua per mostrarle come una rarità eccezionale fra l'ammirazione di quanti le videro la regina avrebbe voluto che mi fossi seduto su una di esse ma rifiutai con sdegno sostenendo che avrei preferito affrontare mille volte la morte piuttosto che deporre una parte poco onorevole di me stesso su quei preziosi capelli che un tempo avevano adornato la testa di sua maestà siccome ho il pallino delle arti manuali con i capelli restanti feci un borsellino lungo un metro e mezzo con sopra ricamato in lettere d'oro il nome della regina e lo regalai a glom dal clic con il consenso della sovrana ad essere sinceri era più per bellezza che per altro poiché non avrebbe retto il peso di una moneta ma lei non ci teneva nulla o al massimo certe cosucce che alle bambine piace conservare a corte si davano frequenti concerti poiché il re era amante della musica ci portavano spesso anche me sistemando la mia cassetta sopra un tavolo ma quei suoni erano così forti che non riuscivo a cogliere il motivo era come se tutte le fanfare i tamburi dell'esercito reale mi suonassero nelle orecchie avevo preso l'abitudine di far sistemare la cassetta il più lontano possibile di chiudere porte e finestre e tirare le cortine solo così quella musica cominciava a piacermi da ragazzo avevo imparato a strimpellare qualche motivo alla spinetta glom dal clic ne aveva una in camera sua dove si esercitava due volte la settimana sotto la guida di un maestro di musica la chiamo spinetta perché più o meno somigliava a questo strumento e la si suonava nello stesso modo mi venne in mente che avrei potuto suonare al re alla regina qualche motivetto inglese su questo strumento ma era un'impresa disperata perché la spinetta era lunga quasi 18 metri ed ogni tasto misurava una trentina di centimetri così che anche a braccia aperte non avrei potuto abbracciare più di cinque tasti inoltre per premere un tasto ci voleva una forza maggiore di quella che avevo anche se avessi suonato con i pugni tanta fatica non sarebbe servita a nulla ma inventai un nuovo metodo che consisteva in questo preparai due bastoni grossi come comuni mazze più larghe da un lato poi felpai la base più larga con pelle di topo in modo che battendoci non avrei danneggiato i tasti e non avrei interrotto il ritmo davanti alla spinetta fu posta una panca poco più in basso della tastiera sulla quale correvo avanti e indietro battendo i tasti giusti con i miei batacchi riuscì così ad eseguire una giga con gran divertimento delle loro maestà certo fu l'esercizio fisico più pesante che avessi mai affrontato sebbene non riuscissi a premere più di 16 tasti e non fossi capace di conseguenza di suonare contemporaneamente in chiave di violino e di basso come fanno i veri musicisti con limiti non indifferenti per la mia esecuzione accadeva spesso che il re uomo sagace ed intelletto finissimo come ho già avuto modo di riferire mi volesse sopra la sua scrivania con la scatola e tutto mi faceva accomodare su di una delle mie seggioline a un tre metri di distanza dal suo volto per cui venivo a trovarmi allo stesso livello e in questo modo si svolsero fra noi diverse discussioni un giorno mi presi la libertà di dirgli che i suoi pregiudizi nei confronti dell'europa e degli altri paesi del mondo non erano degni delle altissime qualità di cui era dotata la sua mente che la ragione non era affatto proporzionale alle dimensioni del corpo tant'è vero che al mio paese si diceva che i più alti fossero i più minchioni che nel regno animale spettava alle api e alle formiche il primato dell'industriosità dell'abilità e della sagacia che per quanto mi potesse considerare un essere da nulla tuttavia speravo di vivere tanto da poter rendere a sua maestà qualche servigio eminente lui che mi aveva ascoltato con interesse cominciò a farsi di me un'opinione migliore volle che gli facessi una precisa descrizione dell'inghilterra poiché se come monarca era profondamente attaccato i propri ordinamenti e così dovevano essere anche gli altri come aveva capito dalle mie parole non per questo sarebbe stato meno felice di conoscere quelle leggi che meritano di essere imitate ti immaginerai cortese lettore quanto avessi ardentemente desiderato di avere la lingua di cicerone di demostene per poter essere in grado di celebrare adeguatamente le lodi della mia patria diletta e con essa lo stile adatto ai suoi meriti alla sua prosperità cominciai dunque la mia dissertazione informando sua maestà che i nostri stati sono composti di due isole che comprendono tre grandi regni sotto un unico sovrano oltre alle colonie d'america mi soffermai a lungo a illustrare la fertilità del suolo e l'amitezza del clima passai quindi ad escrivere diffusamente il parlamento inglese composto da una parte da quell'illustre consesso detto camera dei pari di cui fanno parte persone di nobilissimo sangue e di antica cospicua ricchezza descrissi la severa educazione che veniva loro impartita nel campo delle arti e in quello delle armi per farne i consiglieri del re e del regno membri del corpo legislativo dell'inappellabile alta corte di giustizia campioni pronti a dedicare il loro valore l'integrità e la fedeltà alla causa del re e della patria dissi che erano questi l'ornamento e il baluardo del regno degna stirpe di illustrissimi antenati che ebbero nell'onore l'unica ricompensa alla virtù che mai sarebbe mancata in nessuno dei loro discendenti a questi si univano come parte integrante dell'assemblea santi uomini col titolo di vescovi con il compito specifico di curare la religione e quanti si dedicano al suo insegnamento fra il popolo e il sovrano in persona con i suoi consiglieri più saggi a cercarli in tutto il paese scegliendoli fra quei preti che hanno acquisito meritatissima fama per la santità della vita e la dottrina profonda veri padri spirituali del clero e del gregge dissi ancora che l'altro ramo del parlamento era costituito da un'assemblea detta camere dei comuni composta dai migliori gentiluomini liberamente designati dal popolo in considerazione della loro capacità e dell'amor patrio a rappresentare la saggezza della nazione questi due rami costituiscono la più augusta assemblea che si abbia in europa e ad essa viene affidata insieme al re l'attività legislativa fu quindi la volta delle corti di giustizia le quali sotto la presidenza dei giudici saggi e venerandi interpreti della legge hanno il compito di sentenziare sulle contese dei diritti e delle proprietà di punire il vizio e di proteggere l'innocenza non dimenticai di accennare alla saggia amministrazione delle nostre finanze nonché al valore all'efficienza delle nostre forze di terra e di mare quindi gli dissi il numero globale della nostra popolazione calcolando quanti milioni di anime potessero appartenere all'una o all'altra setta religioso o a questo a quel partito politico non dimenticai i nostri sport e i nostri svaghi e ogni altro aspetto del nostro vivere civile che potesse tornare ad onore della patria conclusi con un breve profilo storico degli eventi che si sono svolti in inghilterra nell'ultimo secolo questa conversazione continuò per cinque udienze ognuna di un'ora con la massima attenzione del sovrano il quale spesso prendeva nota di quanto dicevo segnandosi a parte le domande che mi avrebbe poi rivolto appena ebbi finito questo lungo resoconto in una sesta udienza sua maestà consultò i suoi appunti e mi sottopose tutta una serie di dubbi di domande e di obiezioni su ogni argomento cominciò col chiedermi quali metodi seguivamo per temprare il corpo e coltivare la mente dei nostri nobili rampulli e in quali occupazioni venivano impegnati nell'età in cui si può plasmare un individuo in quali modi l'assemblea riempiva i vuoti aperti dalla fine di qualche nobile famiglia quali doti erano richieste a quelli che sarebbero diventati i nuovi lord e poi se fosse mai capitato che gli umori del principe la corruzione di una dama di corte o di un primo ministro il progetto di rafforzare un partito contro l'interesse pubblico avessero agevolato tali promozioni quale fosse la conoscenza che questi lord avevano della legge del loro paese e se fosse tale da permettere loro di decidere senza appello della proprietà dei loro compatrioti se fossero immuni da avarizia favoritismi ingordigia tanto da respingere con sdegno somme di denaro o infami complotti inoltre mi chiese se quei santi uomini come li avevo definiti avessero raggiunto l'episcopato per la loro dottrina in materia di religione e per la santità della loro condotta dopo aver respinto per tutta la loro carriera di preti ogni interesse temporale o se per caso non si fossero prostituiti a certi nobili di cui avrebbero continuato a servire gli interessi una volta messi all'assemblea volle poi sapere quali raggiri si compivano per eleggere quelli che avevo chiamato rappresentanti ai comuni se per esempio uno straniero con la borsa piena fosse in grado di comprarsi i voti destinati al signore locale o a qualche altro nobile del circondario in che modo si spiegava che alcuni desiderassero fortemente di far parte di questa assemblea quando io stesso avevo messo in risalto il fastidio e la spesa che questa carica richiedeva tale da gettare sull'astrico le loro famiglie da questo loro modo di agire emergeva un così alto grado di virtù civica e di interesse per il pubblico bene che a sua maestà veniva qualche sospetto che quei signori non fossero completamente sinceri vole infatti sapere se quei gentiluomini così animati da zelo non avessero in mente di rifarsi abbondantemente della fatica e delle spese sostenute sacrificando il pubblico bene agli scopi di un principe inetto e vizioso in combutta con qualche ministro corrotto su questo punto mi fece un'infinità di domande valutando attentamente la questione e proponendomi tali e tanti interrogativi ed obiezioni che credo prudente non riferire c'erano molte cose che sua maestà desiderava sapere a proposito dei nostri tribunali ed io ero in grado di rispondere con cognizione di causa perché in passato ero stato mezzo rovinato da un lungo processo in cancelleria per il quale avevo dovuto pagare le spese mi chiese quanto tempo e quanto denaro ci voleva per risolvere una causa se gli avvocati potevano difendere cause apertamente ingiuste vessatorie oppressive se i partiti politici e le fazioni religiose avevano peso sulla giustizia se gli avvocati erano persone educate al senso universale della giustizia o solamente esperti degli usi e dei costumi nazionali provinciali o puramente locali se costoro o i loro giudici avevano collaborato alla stesura di quelle leggi che poi interpretavano e glossavano a loro piacimento se era mai accaduto che costoro avessero avuto in tempi diversi il ruolo di difensori e di accusatori nella medesima causa costringendo i testi a dimostrare il contrario di quanto avevano testimoniato se la loro fosse una corporazione ricca o povera se ricevevano parcelli in denaro per difendere le cause o esprimere pareri se infine venissero ammessi a far parte della camera dei comuni il discorso cadde quindi sull'amministrazione della finanza pubblica secondo sua maestà la memoria doveva avermi tradito perché avevo calcolato l'introito annuo dell'erario in circa 5 o 6 milioni mentre le uscite del bilancio da me riferite ammontavano più del doppio tenne a dirmi che su questo argomento aveva preso appunti precisi perché sperava che il nostro sistema finanziario gli avrebbe fornito utili suggerimenti e che quindi i calcoli che aveva fatto erano esatti se dunque quanto gli avevo detto era vero non riusciva a rendersi conto di come un regno potesse spendere tanto di più di quanto gli era permesso come accade ad un comune cittadino e allora quali erano i nostri creditori e dove trovavamo i soldi per pagarli quando mi sentì parlare di certe guerre lunghe e pesanti cadde dalle nuvole e pensò che noi fossimo un popolo attaccabrighe i nostri vicini pessime persone i nostri generali più ricchi dei satrapi mi chiese quali interessi avevamo fuori dalle nostre isole esclusi naturalmente i traffici commerciali sanciti da trattati e la difesa costiera ma soprattutto rimase sorpreso quando mi sentì parlare di un esercito mercenario mantenuto anche in periodo di pace e in un paese libero se eravamo governati come avevo sostenuto da rappresentanti che noi stessi avevamo eletto non riusciva a capacitarsi di chi avevamo paura o contro chi mai avremmo dovuto combattere e poi mi chiese espressamente se una casa privata non fosse difesa meglio dal padrone dai figli e dall'intera famiglia piuttosto che da una mezza dozzina di canaglie raccattate con quattro soldi in mezzo alla strada le quali avrebbero guadagnato cento volte di più sgozzando chi dovevano difendere rise della mia buffa aritmetica come si compiacque di definirla con la quale calcolavo il numero degli abitanti dividendoli in sette politiche e religiose disse che non capiva come quelli che professavano opinioni dannose per il pubblico bene dovessero essere obbligati a cambiarle né perché non dovessero essere obbligati a nasconderle perché se nel primo caso l'atteggiamento è quello della tirannia nel secondo è quello della debolezza alla fin fine si può permettere al singolo cittadino di avere veleni in casa sua ma non di venderli come sciroppi mi fece osservare che fra i passatempi della nobilità avevo fatto riferimento al gioco vuole sapere a che età si cominciava a praticarlo e a quale smetterlo quanto tempo gli veniva dedicato se poteva in certi casi intaccare il patrimonio se gente abbietta e corrotta riusciva con l'abilità nel gioco ad accumulare ricchezze tali da avere i nobili in pugno o abituarli a pessime compagnie distraendoli completamente dalla cura dello spirito e costringendoli a furia di perdite ad esercitare quell'arte infame sugli altri rimase letteralmente sbalordito a sentire la storia degli avvenimenti che si erano verificati negli ultimi cento anni bollandoli come un cumulo di cospirazioni ribellioni assassini massacri rivoluzioni esili di effetti peggiori che l'avarizia la faziosità l'ipocrisia la perfidia la crudeltà la rabbia la follia l'odio l'invidia la brama la malizia e l'ambizione possono produrre in un'altra udienza sua maestà ricapitolò quanto gli avevo detto confrontando le domande con le risposte poi dopo avermi preso in una mano e passandomi l'altra sui capelli con un gesto di benevolo rimprovero mi rivolse le seguenti parole che non dimenticherò mai né per la sostanza né per il modo in cui le disse mio piccolo amico grilled rig mi hai fatto un gran panegirico della tua patria dimostrandomi che le qualità essenziali per diventare un legislatore sono l'ignoranza l'ozio e il vizio che le leggi sono spiegate interpretate ed applicate in maniera ineccepibile da quanti hanno interesse abilità nel pervertirle confonderle e deluderle qualche aspetto delle vostre istituzioni può essere stato almeno tollerabile in origine ma ormai è cancellato e il resto si è deteriorato nella corruzione da quanto hai detto non sembra affatto che a un certo ruolo nella società debba corrispondere una certa condotta di vita e tantomeno che i nobili vengano dichiarati tali in nome della loro virtù che i preti vengono promossi per la pietà e la dottrina i soldati per il valore i giudici per l'integrità i senatori per l'amore del paese i cancellieri per la saggezza certo spero che tu che hai passato gran parte della vita viaggiando sia immune dai molti vizi del tuo paese ma da quello che ho sentito dalle tue relazioni e dalle risposte che ti ho tirato fuori a gran fatica non posso fare altro che ritenere la maggior parte dei tuoi compatrioti la razza più perniciosa di verniciattoli detestabili a cui la natura abbia permesso di strisciare sulla faccia della terra